Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza al termine del Captain's Run con la nostra capitana Sofia Stefan prima di Italia-Inghilterra, prima giornata del Guinness Women's Six Nations. Prima di iniziare abbiamo un comunicato di Chiesi, la casa farmaceutica, che come ogni anno promuove la campagna Play the Rar Game in collaborazione con FIR in partnership con Zebra Rugby Club di Parma e Fondazione Mega Wish International e la campagna che è partita già il mese scorso per il Sele Nazioni Maschile prenderà luogo anche durante il Guinness Women's Six Nations. Attraverso un semplice gesto come quello del passaggio del pallone, Chiesi cercherà di creare la più grande squadra di persone possibile al sostegno della comunità della ricerca contro le malattie rare. Domani prima della partita è previsto un momento dedicato in cui il pubblico sarà invitato a passarsi la palla, a realizzare più passaggi possibili e a postarli sui propri social. La catena di passaggi virtuali, oltre ad aumentare la consapevolezza sull'impatto delle malattie rare a livello globale, contribuirà a supportare Mega Wish International, che ogni giorno si impegna a esaurire i desideri di bambini che convivono con malattie gravi. Dunque è un'iniziativa molto importante di cui FIR è partner e un'iniziativa che vedremo domani a Lanfranchi. Siamo pronti per la conferenza? Possiamo iniziare con le domande? Allora, iniziamo il 6 nazioni. Cosa c'è di migliore? Qual è l'approccio che ha cambiato, la cosa positiva rispetto allo scorso anno? Allora, intanto sicuramente abbiamo interiorizzato un piano di gioco che è cambiato rispetto a quello che abbiamo lavorato fino al mondiale, quindi abbiamo avuto sicuramente più tempo, modo e partite per metterlo in pratica. L'obiettivo di questo 6 nazioni è confermare la crescita appunto dallo scorso, che come ho già detto secondo me è stato un po' mediocre, quindi vogliamo sicuramente tornare ai nostri livelli e perché no provare a fare meglio. Domani c'è l'Inghilterra, la domanda è se cambia qualcosa, se l'approccio è sempre lo stesso, se c'è qualcosa di differente a livello proprio di adrenalina quando si affronta l'Inghilterra. L'approccio è lo stesso perché per noi ogni partita è fondamentale per aspetti diversi della nostra crescita, quindi oggi è iniziato un po' a sentirsi quel fermento speciale del 6 nazioni, dall'arrivo in campo al team run e diciamo che con i mezzi a disposizione siamo più pronti e possibili per iniziarlo. Sì, una domanda di Paolo Malpezzi di Sky Sport. Conosciamo l'Inghilterra, quale sono le contromisure che pensate di prendere, se tra queste c'è quella di impedire all'Inghilterra di entrare in ritmo gara? Allora, sicuramente il nostro primo focus della partita sarà l'efficacia difensiva, quello su cui abbiamo lavorato di più in settimana. Detto questo, quando avremo l'occasione di avere il possesso il nostro obiettivo è disorganizzare di più questa Inghilterra che è sempre pronta subito ad essere efficace e a mettere un sacco di pressione, quindi abbiamo lavorato su dei modi per cercare di creare un po' di scompiglio nella loro organizzazione difensiva. Sì, la domanda di Mario Diani era sull'intensità e sul lavoro in mischia. Sarà una partita che si giocherà molto sulle mischie e se può aiutare il fatto che le nostre tre prime linee, che sono Maris, Turani e Sey, ricordiamolo, giocano tutte all'estero, Maris in Francia, Turani e Sey in Inghilterra e quindi sono abituate comunque a contrasti con una grande intensità tutte le settimane. Sì, sicuramente il mix di esperienza sia di questa stagione e della carriera delle ragazze di prima linea che sono nella lista gara ci aiuterà a far fronte a un'Inghilterra che è sempre molto fisica e molto efficace nelle fasi statiche e diciamo che puntiamo a farle durare il meno possibile, a riuscire a stare nel ritmo e appunto, come vi dicevo, a disorganizzarle il più possibile. E si è aiutato il fatto che voi abbiate avuto quasi tutte in passato, cioè la maggior parte delle ragazze che giocavano all'estero in passato hanno fatto esperienza in Francia, poi certo ci sono state le eccezioni, Manuela Furlan o Michela Silleri che hanno giocato in Inghilterra e quindi si è aiutato questa cosa? Credo che l'approccio diverso alla partita con la Francia e con l'Inghilterra sia adatto più che altro dalle nostre caratteristiche e dalle loro caratteristiche, siamo molto più simili alla squadra francese quindi per noi è più facile affrontarla da un punto di vista mentale, questo non ci impedisce di avvicinarci un po' alla volta al modello dell'Inghilterra sicuramente anche attraverso l'esperienza delle ragazze che ci giocano e ovviamente quando stai a contatto con una realtà e la vivi da vicino ci riesci a vedere i punti forti e i punti deboli mentre se l'affronti una volta all'anno e nel modo in cui l'affrontiamo noi a 6 nazioni è più facile vedere i punti forti quindi sicuramente questo ci aiuterà un pochino. La domanda di Paolo Malpezi di Sky Sport era se al di là dell'aspetto del gioco e più tattico si è stato fatto un approfondimento o un lavoro più sulla parte fisica? Allora, è giusto considerare le caratteristiche degli avversari e delle avversarie ma il nostro lavoro durante i raduni è solo il riassunto di tutto quello che viene fatto nei club o comunque nella nostra quotidianità che punta a migliorare sia l'aspetto fisico che l'aspetto reglistico quindi sì, certo, consideriamo il fatto che l'Inghilterra è più fisica di noi ma non possiamo chiuderci intorno a questo aspetto qui abbiamo semplicemente continuato a lavorare sui nostri punti di forza e cercato di tirare su i nostri punti un po' deboli diciamo. Sì, la domanda sempre di Paolo Malpezi è sul come si è lavorato per gestire un punto di forza dell'Inghilterra che è la mola avanzante. Allora, sicuramente è un lavoro specifico di reparto gli avanti l'hanno affrontato tutta la settimana ovviamente uno dei nostri obiettivi è prendere meno calci di punizione possibili quindi la disciplina sicuramente dovrà essere efficace da parte nostra dopodiché ovviamente ci sarà il momento in cui arriveranno delle mola avanzanti ai nostri 22 l'obiettivo è cercare di fermarle, sempre però io credo che si debba partire da più lontano e quindi rispettare il piano di gioco stare nel processo su cui abbiamo lavorato in settimana e stare disciplinate. Allora, la domanda è sempre di Paolo Malpezi sull'identità di gioco e su un aspetto di cui aveva parlato Coach Reneri durante la conferenza di lancio del 6 nazioni ossia saper scegliere quando attaccare con intensità e quando invece saper rallentare ed aspettare e a che punto siamo con questo processo e quanto si è lavorato. Sì, credo che questo processo sia l'obiettivo di ogni squadra ovvero di saper gestire i momenti forti e i momenti meno forti delle partite diciamo che uno degli obiettivi che ci siamo date è di riuscire a mantenere i palloni veloci quando avremo l'occasione di giocarli quindi senza frenesia ma con molta lucidità e entrare nella consapevolezza di riuscire a capire quando invece ci sarà un po' da rallentare e appunto come vi dicevo prima disorganizzare in altro modo la difesa avversaria. Siamo sicuramente a un punto migliore di come eravamo un anno fa di questo ne sono certa. Bene, se non abbiamo altre domande concludiamo qui l'appuntamento è domani alle 16 allo stadio Lanfranchi col calcio di inizio in Italia e Inghilterra che è visibile anche su Sky Sport Arena poi chiedo con il commento di Paolo Marpezzi e a presto, grazie e buon lavoro. Grazie mille.